buonasera cari ascoltatori siamo giunti al nostro appuntamento radiofonico del quarto venerdì del mese il biblista risponde stasera vorrei parlarvi di una questione molto seria partendo dal libro di giobbe dal libro della sapienza vorrei affrontare il tema del rapporto di dio con il dolore con il dolore innocente con le prove della vita con la morte e soprattutto con la speranza nella risurrezione questo tema l'ho approfondito poi in un libro che è appena uscito edito da città nuova intitolato tutto concorre al bene bene vogliamo riflettere questa sera su questo tema a partire dal cosiddetto filone sapienziale dell'antico testamento a partire dal re salomone siamo nel decimo secolo avanti cristo fino alle soglie del cristianesimo si sviluppa in israele un filone di pensiero definibile appunto come sapienziale probabilmente questo genere letterario questo modo di esprimersi di ragionare di far teologia proviene dall'egitto dove sono stati ritrovati ben 15 libri della sapienza e la finalità che perseguiva questo tipo di letteratura era quello di formare la classe dirigente i principi i re gli alti magistrati coloro che erano destinati ad occupare gli alti gradi dell'apparato militare di uno stato e a questo scopo poi questa letteratura si diffonde anche in mesopotamia nord di israele e in israele stesso qui in israele con il termine sapienza in ebraico kokma vengono classificati vari scritti dell'antico testamento dai biblisti il libro dei proverbi giobbe coelet il siracide il libro della sapienza ma anche i salmi e il cantico dei cantici all'interno di queste opere è possibile dicono gli studiosi individuare come due filoni di pensiero che potremmo definire con le nostre categorie attuali come sapienza tra virgolette ortodossa e sapienza eterodossa alla cosiddetta sapienza eterodossa appartengono i libri di giobbe e di coelet le altre opere che vi ho citato prima invece possono essere fatte rientrare nel filone sapienziale chiamiamolo così ortodosso ma per intenderci quali erano le caratteristiche principali di queste due tendenze di pensiero dell'antico testamento la tendenza tra virgolette ortodossa è sostanzialmente conservatrice spesso si limita a rilevare e a registrare i dati dell'esperienza umana e non accentua più di tanto le contraddizioni gli aspetti negativi le disgrazie che possono capitare per affrontare le necessità della vita spesso all'interno di questo filone di pensiero dell'antico testamento ci si affida al buonsenso alla tradizione credente e il quadro della vita che ne risulta ha così le tinte dell'ottimismo voglio dire per questi saggi dell'antico testamento dio governa sulla terra soprattutto attraverso una legge chiamiamola così una specie di dogma la retribuzione di dio è una specie di dogma che tenta di interpretare il rapporto di dio con gli uomini e in fondo dice così a chi fa il bene dio fa andar bene le cose nella vita il peccatore invece già su questa terra viene giustamente castigato con quote di sofferenza e di disgrazie direttamente proporzionali alle colpe che ha commesso anzi talvolta questo principio giunge a prevedere anche il rapporto di dio con i discendenti delle persone in questione le conseguenze positive o negative di un'azione di una persona del comportamento di una persona si riverseranno immancabilmente anche sui suoi figli sui suoi nipoti fino alla terza la quarta generazione e si era inventato addirittura un proverbio nell'antico testamento che recitava così i padri hanno mangiato l'uva acerba e i denti dei figli si sono allegati e molto dovranno predicare i profeti geremia ed ezechiele nel momento più critico della storia di israele il momento dell'esilio a babilonia per far capire alla loro gente in crisi dei fede che i figli non c'entrano niente con i peccati dei padri per far comprendere cioè che ognuno è responsabile delle sue proprie azioni di fronte a dio però anche questi due profeti dell'esilio geremia ed ezechiele in fondo ribadiscono il dogma della retribuzione sia pure intesa a livello personale ognuno morirà dice geremia per la sua propria iniquità e a ogni persona che mangi l'uva acerba si allegheranno i denti così pensavano molti saggi in israele in contrapposizione a questa prima visione vedete un po troppo semplificatrice della realtà della vita sorge un secondo filone sapienziale nell'antico testamento per il suo realismo per l'atmosfera di crisi che si respira in questo filone sapienziale sembra più diciamo così eterodosso del primo filone ma attenti non dimentichiamoci che anche i libri di giobbe di coelet cioè i libri più tra virgolette eterodossi sono entrati nel canone della bibbia in quanto parola di dio in quanto parola di dio in parole umane in quanto parole umane ispirate dallo spirito santo anche questi due libri insomma rivelano un aspetto del volto del nostro dio giobbe e coelet criticano l'ottimismo di fondo della prima tendenza sapienziale e insistono cociutamente sulle contraddizioni della vita sulle disgrazie che capitano nella vita sul non senso sulla vanità in cui può ammalarsi anche l'uomo di fede pensate coelet vanità delle vanità tutto è vanità capite subito che lo stesso interrogativo su dio posto da questi due punti di vista il filone sapienziale più ortodosso più ottimista e il filone sapienziale più eterodosso più pessimista diciamo così porterà a risposte diverse e il cristiano e noi cristiani il cristiano dovrà tentare di leggere queste due testimonianze diverse provenienti dai credenti dell'antico testamento alla luce di un terzo punto di vista che è quello di gesù cristo alla luce della vita della morte della risurrezione di cristo il cristiano dovrà rileggere queste antiche testimonianze di fede verificando ciò che in queste pagine dell'antico testamento veniva già rivelato dallo spirito santo e ciò che invece la rivelazione incandescente di gesù cristo il rivelatore ultimo di dio ci ha fatto superare di queste pagine antico testamento per questioni di tempo appunto stasera come vi dicevo vorrei affrontare giobbe come rappresentante della sapienza eterodossa e il libro della sapienza come ultimo rappresentante della sapienza ortodossa insomma chi è dio per un sapiente in crisi come giobbe e chi è dio per un sapiente ottimista fondamentalmente ottimista come l'autore del libro della sapienza che notate si è scontrato con gli stessi problemi di giobbe ma è riuscito a superare la crisi di giobbe grazie sempre all'influsso dello spirito santo giobbe la vicenda di giobbe più o meno la conosciamo tutti anche se probabilmente pochi hanno letto l'intero libro perché è piuttosto lungo 42 capitoli e talvolta anche ripetitivo però chi l'ha letto si è accorto che giobbe è tutt'altro che un uomo paziente del resto chi lo sarebbe stato al suo posto leggo alcune battute del primo capitolo del libro di giobbe per richiamarvelo semplicemente alla memoria ma sono sicuro che tutti ricordate la vicenda di giobbe c'era nella terra di uz un uomo chiamato giobbe uomo integro eretto temeva dio ed era alieno dal male gli erano nati sette figlie e tre figlie possedeva settemila pecore e tremila cammelli 500 paia di buoi e 500 asine e molto numerosa era la sua servitù quest'uomo era il più grande fra tutti i figli d'oriente vedete giobbe è giusto non fa del male a nessuno non pecca contro dio e dio quindi lo benedice tutto nella vita di giobbe va bene la teoria della retribuzione sembra funzionare proprio alla perfezione dio è buono con i buoni dio è castigatore con coloro che osservano non osservano i suoi comandamenti ma giobbe li osserva giobbe giusto giobbe è buono dunque la vita gli va bene ma nella storia entra in azione il male che l'autore del libro di giobbe chiama con un nome in ebraico assatan il satana a dire il vero è un essere misterioso viene definito un elohim un essere divino alla corte di dio ha la funzione potremmo dire del pubblico ministero alla corte di dio del pm entra in scena questo essere misterioso e la teoria della retribuzione umana troppo umana per essere vera si inceppa sentite un giorno i figli di dio andarono a presentarsi davanti al signore e anche il satana andò in mezzo a loro il signore chiese al satana da dove vieni il satana rispose al signore da un giro sulla terra che ho percorsa il signore disse al satana hai posto attenzione al mio servo giobbe nessuno è come lui sulla terra uomo integro e retto teme dio ed è alieno dal male satana rispose al signore disse forse che giobbe teme dio per nulla non hai forse messo una siepe intorno a lui e alla sua casa e a tutto quanto è suo tu hai benedetto il lavoro delle sue mani e il suo bestiame abbonda di terra vedete insinua il satana insinua in dio il sospetto che insomma giobbe crede in lui perché ci guadagna per interesse personale ed ecco qui ma stendi dice il satana stendi un poco la mano e tocca quanto giobbe ha e vedrai come ti benedirà in faccia il signore disse al satana ecco quanto e possiede è in tuo potere ma non stendere la mano su di lui il satana si allontanò dal signore ora accadde che un giorno mentre i suoi figli e le sue figlie stavano mangiando e bevendo in casa del fratello maggiore un messaggero venne da giobbe e gli disse i buoi stavano arando e le asine pascolando vicino ad essi quando i sabei sono piombati su di essi e li hanno predati e hanno passato a fil di spada i guardiani sono scampato io solo che ti racconto questo mentre egli ancora parlava entrò un altro e disse un fuoco divino è caduto dal cielo si è attaccato alle pecore ai guardiani e li ha divorati sono scampato io solo che ti racconto questo mentre egli ancora parlava entrò un altro e disse i caldei i tuoi figli e le tue figlie stavano mangiando e bevendo in casa del loro fratello maggiore quando ecco un vento impetuoso si è scatenato da oltre il deserto ha investito i quattro lati della casa che è rovinata sui giovani e sono morti sono scampato io solo che ti racconto questo allora giobbe si alzò e si stracciò le vesti si rase il capo cadde a terra si prostrò e disse nudo usci dal seno di mia madre e nudo vi ritornerò il signore ha dato il signore ha tolto sia benedetto il nome del signore in tutto questo giobbe non peccò e non attribuì a dio nulla di ingiusto ma la sciagura non è finita di lì a poco tempo in questa specie di pièce teatrale che è il libro di giobbe giobbe verrà colpito di nuovo dal satana stavolta nella sua stessa carne con una malattia dalla testa ai piedi e per la seconda volta giobbe non fa peccato non si rivolta contro dio stemmia come vorrebbe invece sua moglie anzi rimprovera sua moglie come parlerebbe una stupida tu hai parlato e poi aggiunge giobbe una professione di fede davvero ineccepibile dice se da dio accettiamo il bene perché non dovremmo accettare il male ma già qui la domanda dentro di noi sale ma è da dio che ci arriva il male a questo punto entrano in scena su questa specie di teatro che il libro di giobbe tre amici sono spinti notate dalle migliori intenzioni vogliono consolare il loro amico comune che è caduto in disgrazia e giunti da lui lo trovano in fin di vita prostrato e si mettono a piangere si stracciano le vesti si cospargono il capo di cenere in segno di dolore in segno di solidarietà con il loro amico comune si siedono per terra con lui di fianco a lui e restano così tutte quattro in silenzio per sette giorni e per sette notti nessuno giustamente ha il coraggio di dire nulla ma alla fine giobbe esplode esplode in una maledizione ma non una maledizione contro dio un'auto maledizione terribile una maledizione contro se stesso o meglio contro il giorno della sua nascita maledetto dice il giorno in cui sono nato perché il grembo di mia madre non è diventato subito il mio sepolcro almeno non avrei sofferto così tanto se fossi stato abortito non avrei affrontato tutte queste sofferenze nella vita è la disperazione che ha preso il sopravvento sulla fede in dio del buon giobbe e di fronte a questo lamento cieco allora i suoi amici cercano le parole giuste per consolarlo e cosa fanno si rifanno alle certezze su dio che anche loro fin da piccoli avevano imparato tentano insomma di riproporre a giobbe l'idea di dio elaborata precisamente dal filone della sapienza ortodossa di cui vi parlavo prima la sapienza ottimista e con varie motivazioni da un lato gli amici di do di giobbe tentano di prendere loro le difese del signore di fronte alla ribellione di giobbe e dall'altra parte cercano di convincere giobbe che se dio ha mandato su di lui le sciagure significa che in qualche modo è stato lui a commettere peccato ma giobbe nega questo lo nega con risolutezza è sicuro giobbe di essere dalla parte della ragione in coscienza non trova alcun peccato degno di essere colpito da un castigo di dio così tremendo certo avrà fatto peccato anche lui ma non un peccato così grave da essere castigato così gravemente gli amici ribattono che magari giobbe non lo sa o non se ne ricorda ma dio è onnisciente sa tutto sa bene quali sono stati gli atti commessi da giobbe che hanno causato lo scatenarsi della sua ira contro di lui e per pagine pagine questo tentativo di consolazione prosegue ma in vano perché di fronte al dio della retribuzione che i suoi tre amici che poi diventeranno quattro e che i suoi tre o quattro amici tentano di propinarli giobbe perde la pazienza e non smette di protestare contro un dio che sembra quasi divertirsi sadicamente a lanciare le sue frecce le sue disgrazie dall'oscurità della sua trascendenza dall'alto della sua torre d'avorio per castigare gli uomini persino per peccati che dice giobbe in fondo non hanno commesso e giobbe a un certo punto si rivolge proprio a dio discute con lui perché non mi finisci subito sembra dirgli ormai è spazientito su fammi morire almeno è finita per me però prima di farla finita signore abbi il coraggio di uscire allo scoperto smetti da smettila di lanciare le frecce delle tue disgrazie da lontano di nascosto vieni fuori e dimmi questa sola cosa perché sto soffrendo perché mi hai tolto soprattutto i figli se non ho fatto niente di male a nessuno o perlomeno non ho fatto un male così grave da mere questo tuo castigo perché mi hai colpito con questa malattia se non t'offeso con un peccato grave questo solo voglio sapere poi posso pure uscire di scena falla finita con me questa è la protesta spazientita di giobbe e questa protesta ad un certo punto si concentra come in un grido di speranza un grido che giobbe lancia verso il cielo urla io lo so che il mio vendicatore vivo iniziamo a tradurre così si potrebbe tradurre anche il mio redentore vivo in ebraico abbiamo il mio goel è vivo siamo nel capitolo diciannovesimo del libro di giobbe che secondo me è il centro di questo libro io lo so che il mio vendicatore vivo e che ultimo si ergerà sulla polvere dopo che questa mia pelle sarà distrutta senza la mia carne vedrò dio io lo vedrò io stesso e i miei occhi lo contempleranno non da straniero come a dire amici voi mi assicurate che il vostro dio ha ragione voi tentate ad ogni costo di convincermi che le mie sofferenze la morte dei miei figli abbiano un motivo anzi voi vi arrampicate sui vetri potremmo dire per dimostrarmi come questo motivo sia radicato nel mistero stesso di dio un dio giusto un dio retributore un dio che nella sua giustizia mi sta castigando ebbene tutto dentro di me si rivolta perché mi dice che il vostro dio non esiste il dio che mi annunziate è una vostra immagine di dio ve la siete inventata voi per far tornare i conti della vostra vita della storia del vostro popolo dell'universo intero ma ve lo siete inventato voi qualcosa dentro il mio cuore mi dice che ci sarà un goel un vendicatore delle mie sofferenze e alla fine della mia vita o forse anche oltre la fine della mia vita io lo vedrò e chi è questo redentore questo vendicatore questo goel che giobbe chiama in sua difesa il vendicatore il goel nel diritto ebraico dell'antico testamento era il parente più vicino di una persona caduta in disgrazia il quale aveva il dovere di prendersi cura di questa persona e se la disgrazia consisteva in un soppruso il vendicatore era colui che doveva far giustizia a questa persona che aveva subito il soppruso spesso applicando la legge cosiddetta del taglione al mio parente è stato fatto questo danno io che per legge sono il suo vendicatore il suo goel sono qui a far valere le sue ragioni esigo il risarcimento del danno voglio giustizia faccio applicare la legge di mosè la legge di dio che dice occhio per occhio dente per dente figlio per figlio tu hai ucciso il figlio a questo mio parente tuo figlio deve morire e io lo ucciderò perché io sono il vendicatore del mio parente ma torniamo al caso di giobbe chi è il danneggiato in questo caso chi subisce un soppruso giobbe e chi è colui contro cui si eleva la protesta di giobbe dio o meglio gli stessi amici gli dicono che è dio il responsabile della morte dei figli di giobbe e che è sempre dio il responsabile della malattia di giobbe delle sofferenze di giobbe quindi ecco la legge del taglione quel dio degli amici deve morire occhio per occhio figlio per figlio giobbe spera che prima di dar l'ultimo respiro o forse anche dopo non lo sappiamo il testo è anche un po ambiguo anche dopo l'ultimo respiro qualcuno lo vendichi contro un dio così se dio è così è indegno di esistere se dio è così è giusto che sia soppresso insomma al di là del racconto di giobbe possiamo vedere emergere con forza in questo libro ispirato da dio dell'antico testamento la speranza in un dio che non coincida con l'immagine del dio retributore propugnata dagli amici di giobbe vedete cari ascoltatori la rivelazione biblica introduce in questo libro ispirato la protesta contro un dio che per far tornare i conti della storia provoca del male a qualcuno la bibbia ispirata da dio stesso afferma con forza con vigore che lo schemino teologico di un dio retributore buono con i buoni e castigatore con i malvagi questo schemino teologico è insufficiente è riduttivo per spiegare la vita umana oscura addirittura il mistero di dio piuttosto che renderlo più chiaro più limpido più pespicuo dio stesso dà torto agli amici di giobbe rifiutando di identificarsi con le loro immaginette di lui che essi cercavano di svendere al povero giobbe per consolarlo dio stesso afferma un dio che fa del male alla gente non esiste punto e basta un dio che si sente in dovere di far soffrire qualcuno per castigare le sue colpe è un'immaginazione umana un dio che si abbatte con la sua ira sui figli di qualcuno che ha commesso peccato questo dio è indegno di esistere non c'è e se c'è nella fantasia di qualcuno di voi sembra dire giobbe ai suoi amici io spero con tutto me stesso che verrà qualcuno a sopprimere questa immagine demoniaca di dio questo è il dio del serpente antico non è il dio vero e io aspetto dice giobbe fino alla fine che questo mio goel questo mio vindicatore si faccia vivo per annientare finalmente lo spettro del vostro dio del dio che voi miei amici tentate di propinarmi io vedrò questo goel io stesso e i miei occhi lo contempleranno non da straniero ma da amico e cosa avviene alla fine della vicenda di giobbe avviene precisamente questa visione giobbe con i suoi occhi finalmente vede ma colpo di scena in questa pièce teatrale meravigliosa che il libro di giobbe colpo di scena il vendicatore il goel che giobbe vede non è altri che dio stesso tant'è che giobbe confessa proprio nell'ultimo capitolo del libro rivolgendosi a dio che si è fatto vivo nella sua coscienza dice giobbe io ti conoscevo per sentito dire ma ora i miei occhi ti vedono giobbe si aspettava di vedere qualcuno che sorgesse al suo fianco per vendicarlo per contrastare l'immagine del dio retributore propinatagli dai suoi amici come veleno come il veleno del serpente antico ed ecco chi a farsi avanti nella sua coscienza è dio stesso a difendere il vero volto di dio contro il volto ambiguo dei suoi amici è dio stesso contro quel dio buono con i buoni e vendicatore con i malvagi insorge il vero dio ma in concreto che cosa vede dio che cosa vede giobbe di dio in visione dio era stato sfidato da giobbe a uscire allo scoperto e a un certo punto entra in scena di persona si fa percepire da giobbe in crisi di fede coloro che dovevano difenderlo agli occhi di giobbe agli occhi di un sofferente innocente gli amici o i sedicenti tali gli stavano rendendo un cattivo servizio si erano costruiti una loro immagine di dio e su questo fantasma del dio retributore continuavano a discutere in vano con il povero giobbe facendolo soffrire di più e da parte sua giobbe a ragione sperava che questo spettro di dio fosse distrutto per sempre ora dio in persona sorge nella coscienza di giobbe per annientare la cattiva immagine di sé che gli amici si erano inventata e cosa fa dio dio non discute con giobbe sull'origine del male non dà purtroppo purtroppo per noi non dà una risposta al perché del dolore innocente purtroppo per noi perché noi non abbiamo in questo mondo una risposta al perché gli innocenti soffrono non ce l'abbiamo non ci viene detta dalla rivelazione biblica giobbe non ce lo dice dio non lo dice a giobbe dio non discute sull'origine del male ma affronta giobbe su un altro tema gli fa contemplare tutta la creazione e poi di fronte allo spettacolo meraviglioso della creazione è come se inchiodasse giobbe con le spalle al muro con una serie interminabile di domande al perché di giobbe dio risponde con ben quattro capitoli interi di domande dal capitolo trentottesimo al capitolo quarantunesimo dove eri tu chiede dio a giobbe quando io ponevo le fondamenta della terra quando io creavo il mondo dillo se hai tanta intelligenza chi ha fissato le dimensioni del mondo se lo sai o chi ha teso su di su di esso la misura chi ha chiuso tra due porte il mare quando erompeva uscendo dal seno materno quando lo circondavo di nubi per veste e per fasce di caligine folta poi gli ho fissato un limite ho fissato un limite al mare e gli ho messo chiavistello e porte ho detto fin qui giungerai e non oltre qui si infrangerà l'orgoglio delle tue onde da quando vivi giobbe hai mai comandato al mattino e assegnato il posto all'aurora sei mai giunto alle sorgenti del mare e nel fondo dell'abisso hai tu passeggiato ti sono state indicate le porte della morte vedete qui il tema ti sono state indicate le porte della morte e hai visto le porte dell'ombra funerea dillo se sai tutto questo certo tu lo sai perché allora è rinato e il numero dei tuoi giorni assai grande notate dio fa anche dell'ironia con giobbe sei mai giunto ai serbatoi della neve hai mai visto i serbatoi della grandine per quali vie si espande la luce si diffonde il vento d'oriente sulla terra scagli tu i fulmini e partono dicendoti eccoci sai tu quando figliano le camozze e assisti al parto delle cerve conti tu i mesi della loro gravidanza e sai tutto quando devo sai tu quando devono figliare e dopo una prima raffica di domande mozzafiato dio si ferma un attimo a chiedere a giobbe il censore cioè tu giobbe vorrà ancora contendere con l'onnipotente con me dio l'accusatore di dio risponda giobbe rispondimi giobbe rivolto al signore disse ecco sono ben meschino che ti posso rispondere mi metto la mano sulla bocca ho parlato una volta ma non replicherò ho parlato due volte ma non continuerò allora il signore rispose a giobbe di mezzo al turbine e disse cingiti fianchi come un prode io ti interrogerò e tu mi istruirai e qui riprende dio con una serie di interrogativi che alla fin fine possono tutti essere riassunti in questa sola domanda dimmi questo giobbe perché tutto questo ben di dio esiste chi è il responsabile di tutte queste creature su giobbe giustificami la vita di tutto il creato tutto questo esiste certo ma di per sé potrebbe anche non esistere se c'è se continua ad essere se la cerva continua a figliare e ad allattare i suoi piccoli e perché qualcuno ha desiderato la vita chi è questo qualcuno notate che qui c'è quasi la stessa visione di di gesù quando diceva guardate gli uccelli del cielo guardate i gigli del campo e dite abba padre riconoscete il dito di dio nella creazione nella vostra stessa vita e qui c'è lo stesso interrogativo ed è questo interrogativo principale su cui dio chiama giobbe a confrontarsi a discutere con lui così da depotenziare l'altro interrogativo che giobbe continuava ad accampare giobbe diceva perché sono colpito da dio io che non ho fatto niente di male a nessuno un interrogativo vedete che nascondeva un sospetto su dio vuoi vedere che dio è proprio come quella divinità degli antichi romani che si chiamava giano e che aveva due volti uno buono con i buoni e uno malvagio con i malvagi vuoi vedere che anche il mio dio è un giano bifronte vuoi vedere che dio ha due volti vuoi vedere che talvolta anche il nostro dio come tante altre divinità dei popoli idolatri cede alla tentazione di far del male a qualcuno in maniera del tutto arbitraria e stavolta è capitato a me vedete dio di fronte a questo sospetto mette giobbe con le spalle al muro continuando a ribadire un altro interrogativo dimmi prima giobbe perché esiste la vita e se sei capace di rispondere a questa domanda fondamentale ti accorgi allora che la tua domanda che pure è comprensibile perché stai soffrendo però ti accorgi che questa tua domanda perché dio mi castiga viene depotenziata viene isterilita se rispondi a questa domanda mia ti accorgi che non esiste un dio che utilizza la sofferenza degli uomini ti accorgi che il dolore umano non ha il suo fondamento in dio e questo depotenzia la sofferenza la rende meno assurda la rende un po meno dolorosa più accettabile perché perché una una persona soffre di più se sospetta che dietro il suo dolore ci sia un dio che l'ha provocato per castigarla e di fronte a questa rivelazione del dio della vita giobbe ammutolisce ha intuito ormai che malgrado tutte le sue disgrazie la vita contiene una promessa di felicità che dio stesso ha fatto decidendo di metterci al mondo senza chiederci il permesso se ci ha messo al mondo è perché ci vuol bene in questo senso il dio di giobbe è il dio della vita dio per il saggio giobbe non è né il dio retributore propinato gli dai suoi amici né il giano bifronte dell'antichità classica anzi giobbe spera che questi due fantasmi di dio siano dissolti una volta per sempre da un vendicatore da un goel insomma da qualcuno che sappia vendicare tutti coloro che come lui stanno soffrendo e le cui sofferenze sono aggravate dal sospetto che dio stesso le abbia causate dio stesso abbia mandato quelle disgrazie per castigarlo e anche noi cristiani ci troviamo senza parole di fronte a coloro che sulla faccia della terra soffrono senza ragione perché in sintesi nel libro di giobbe non abbiamo una risposta alla questione del dolore innocente però giobbe ci fa comprendere in questo senso è un libro ispirato che è stato mantenuto nella bibbia sia dagli antichi ebrei sia da noi cristiani giobbe ci fa comprendere che non dobbiamo propinare risposte di basso profilo come quelle dei tre o quattro amici di giobbe perché chi si comporta come quei tre o quattro non solo non aiuta chi è nella sofferenza ma non riesce neppure a difendere davvero il volto di dio in positivo il libro di giobbe fa leva sull'immagine cristallina e autentica del dio creatore questo libro dell'antico testamento è parola di dio perché di fronte allo scandalo della sofferenza innocente dischiude la nostra speranza al dio della vita se dio ci ha messo al mondo senza chiederci niente è perché ci vuol bene creandoci è come se dio ci avesse fatto una promessa di felicità e nonostante tutto dio manterrà la sua parola ecco il grido di giobbe il mio goel il mio vendicatore è vivo e alla fine anche se dovrò affrontare queste sofferenze nella vita io lo vedrò questa è la speranza insopprimibile di giobbe che giobbe ci dona ma qui siamo nel quinto secolo avanti cristo la rivelazione antico testamentaria di dio continua e continua proprio facendo leva su questa speranza nel dio della vita e aprendosi piano piano alla speranza nella risurrezione dei morti ad una vera e propria fede nella risurrezione dei morti il popolo di israele arriva però soltanto intorno al secondo secolo avanti cristo giobbe quinto secolo secondo secolo avanti cristo sorge la speranza nella risurrezione dei morti in israele prima e prima di quel momento prima del secondo secolo avanti cristo il senso della morte umana anche per gli antichi israeliti è la tragedia di una duplice rottura di relazioni la relazione dell'uomo con gli altri uomini e la relazione del morente con dio se ci pensate bene senza queste due relazioni l'essere umano semplicemente non esiste non è che come si poteva immaginare non so nella filosofia platonica non è che prima c'è l'idea dell'uomo in astratto da qualche parte e poi questa idea viene lanciata nel mondo per cui l'essere umano è messo in relazione con dio e con gli altri esseri umani no no o l'essere umano è in relazione fin dal concepimento con dio con il dio creatore e con gli altri se non altro con i suoi due genitori oppure semplicemente non essere umano è una statua di marmo è una pietra è un tavolo è un cagnolino è una scimmietta ma non è un essere umano ebbene la tragedia della morte per pagine dell'antico testamento prima del secondo secolo avanti cristo è dovuta al fatto che l'essere umano viene alla luce con la promessa iscritta nella sua stessa esistenza nella sua stessa carne di essere un vero uomo una vera donna di realizzarsi come essere umano amando gli altri esseri umani e amando più radicalmente ancora il dio creatore e arriva la morte che stronca queste due relazioni l'essere umano si trova impedito dalla morte a realizzare questo desiderio d'amore che lui stesso è per questo la morte per gran parte dell'antico testamento è tragica perché impedisce radicalmente alla persona umana di essere persona umana in effetti per i libri più antichi dell'antico testamento giobbe probabilmente compreso è in dubbio che chi muore è separato in maniera brutale in maniera definitiva dagli altri esseri umani ma non c'è legame nemmeno tra la morte e dio il dio dell'antico israele il dio dei vivi non dei morti a tal punto che chi è preda della morte entra in una situazione di impurità per cui chi ad esempio tocca un cadavere non può entrare secondo la legge di mosè alla presenza di dio nel culto prima si deve purificare con tanti riti capite la parabola del buon samaritano perché il sacerdote le vita non vogliono avvicinarsi a quel malcapitato c'è del sangue forse è morto chi tocca la morte entra in una situazione di lontananza da dio di impurità e il defunto stesso non può far altro che ma sussistere diciamo così come una larva o un bratile nel cosiddetto shoal nel regno dei morti l'ambito della non esistenza e là il defunto non può nemmeno alzare la sua lode a dio non i morti lodano il signore ma i vivi dicono i salmi possono lodare il signore quindi barriera invalicabile di separazione da dio e dagli uomini la morte è puro non senso per tante pagine dell'antico testamento ma con il secondo secolo avanti cristo alcuni filoni del giudaismo si aprono alla speranza nella risurrezione dei morti sicuramente grazie alla spinta dello spirito santo che ha ispirato questi libri in parte il motivo va cercato negli influssi provenienti dalle credenze religiose delle culture circostanti la cultura persiana la cultura egiziana pensate al culto dei morti dell'antico egitto all'imbarsamazione dei nobili del faraone nell'antico egitto ma è soprattutto il martirio di numerosi ebrei per l'opera di un dittatore antioco quarto l'epifane siamo nel 167 164 avanti cristo è proprio il martirio di questi giudei che fa scaturire questa speranza nella risurrezione dei morti a causa della terribile persecuzione scatenata da questo dittatore per tentare di ellenizzare il popolo di israele per portarlo a vivere secondo le mode ellenistiche non secondo l'alleanza con dio a causa di questa terribile persecuzione ci sono tanti martiri che si oppongono al dittatore e nasce nella coscienza religiosa di israele la speranza nella risurrezione dei morti fondata su due verità su due dogmi ancora una volta la prima verità è la fedeltà eterna del signore a chi gli è fedele vedete che la fatica di giobbe a perseverare nella speranza di un dio goel non è stata vana seconda verità si insiste sulla giusta retribuzione di dio i giusti martirizzati in nome della legge di dio non possono essere abbandonati da dio in potere della morte sono morti per lui dio è giusto deve intervenire ed ecco che in questo frangente di persecuzioni e di martiri del secondo secolo avanti cristo troviamo il racconto del martirio dei sette fratelli e della loro madre in due maccabei sette sette fratelli e la loro madre fatti letteralmente a pezzi da un dittatore proprio per rimanere fedeli a dio per non rinnegare di dio e troviamo anche il passo contemporaneo di daniele 12 siamo nel secondo secolo avanti cristo e questi due testi due maccabei sette daniele 12 costituiscono la prima chiara attestazione biblica della speranza nella risurrezione corporea dell'essere umano in altre parole stando a questi due testi la risurrezione riguarda l'essere umano unitariamente inteso nella sua personalità membra corporea corporea incluse anzi la risurrezione corporea nel suo esito antitetico cioè felicità eterna per coloro che sono stati fedeli all'alleanza con dio e castigo eterno per i malvagi la risurrezione dei morti diventa così lo strumento ultimo e definitivo per mostrare la giustizia di dio accanto alla testimonianza però di due maccabeis 7 di daniele 12 troviamo anche altri testi più tardivi ancora vedete che la rivelazione nell'antico testamento progredisce altri testi che risentono però del modo di vedere l'uomo del modo di pensare l'essere umano tipicamente greco troviamo in questa evoluzione della rivelazione di dio un influsso esercitato sui testi biblici dalla visione dell'uomo ellenistica in questo orizzonte greco ellenistico l'uomo non è più visto tendenzialmente in maniera unitaria come in tanti testi nella bibbia pensate il libro della genesi l'uomo chi è è un corpo animato dallo spirito vitale soffiato lì dentro dal creatore no in questi testi tardivi dell'antico testamento per l'influsso ellenistico si pensa l'essere umano come un'anima incarnata come un'anima imprigionata o decaduta in un corpo e naturalmente in questo modo di vedere l'uomo si nota una certa un certo dualismo possiamo dire così da un lato c'è la corporeità destinata a finire in pasto ai vermi e dall'altra parte c'è l'anima le facoltà spirituali intellettuali volitive l'anima sì che è immortale vedete come questa visione dell'uomo ha una ricaduta sul modo di sperare la vita dopo la morte mi sto riferendo in modo particolare al libro della sapienza siamo nel 30 avanti cristo quindi alle soglie proprio del nuovo testamento siamo ad alessandria d'egitto crocevia di culture di religioni con appunto un modo di pensare l'uomo dualistico del resto il problema dell'immortalità era particolarmente in voga nel mondo soprattutto egiziano ebbene all'interno dell'opera libro della sapienza un'opera ispirata dell'antico testamento troviamo l'ultima testimonianza dell'antico testamento che però presenta sull'aldilà che però presenta la risurrezione potremmo dire così che ha per soggetto le anime vi leggo più semplicemente cosa dice questo testo siamo in sapienza 2 sì dice questo giudeo ispirato sì dio ha creato l'uomo per l'immortalità lo fece a immagine della propria natura vedete come anche la sapienza ottimista ortodossa si apre proprio come il libro di giobbe alla rivelazione del dio creatore dio ama la vita dio creando gli esseri umani è come se avesse fatto loro una promessa sarai felice continuerai a vivere per sempre perché è perché ti ho messo al mondo io senza chiederti il permesso dunque ti ho voluto bene e ti ho creato per questo per volermi bene e dunque per essere felice sarebbe stato il massimo della crudeltà o del sadismo se io dio ti mettessi al mondo ti avessi messo al mondo con dentro un anelito di vita una sete di vita e poi se ti avessi lasciato finire nell'estuario del nulla no io che sono eterno ti ho fatto per l'immortalità per l'incorruttibilità dio dice il testo ha creato l'uomo per l'immortalità lo fece a immagine della propria natura quindi lui eterno noi immortali ma ecco qui la morte dice quest'autore è entrata nel mondo per invidia del diavolo e ne fanno esperienza coloro che gli appartengono ritorna notate la questione seria di giobbe e ancora una volta per spiegare lo scandalo della morte si risale non a dio dio non vuole la morte delle persone dio non vuole la sofferenza dei suoi figli dio non vuole il male di nessuno perché il sommo bene ma allora perché c'è la morte perché c'è la sofferenza il dolore innocente questo autore fa risalire questo al diavolo e alla libertà umana che sceglie di lasciarsi dominare da lui ma vediamo in positivo qual è la sorte di coloro che decidono liberamente di vivere come dio comanda di affidarsi a dio le anime dei giusti dice quest'autore sono nelle mani di dio nessun tormento le toccherà agli occhi degli stolti parve che morissero la loro fine fu ritenuto una sciagura la loro partenza da noi una rovina ma essi sono nella pace anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi la loro speranza è piena di immortalità notate come l'autore ispirato del libro della sapienza si scontra in fondo con lo stesso problema misterioso di giobbe ma la sua speranza nel dio che fa risorgere dai morti gli permette di superare la crisi di fede di giobbe e continua per una breve pena riceveranno grandi benefici perché dio li ha provati e li ha trovati degni di sé li ha assaggiati come oro nel crogiolo e li ha graditi come un olocausto attenti che qui siamo però prima di gesù cristo gesù cristo andrà oltre questo è chi ha peccato lui o i suoi genitori perché nascesse cieco gli chiedono i discepoli davanti a quel cieco nato e gesù dice né lui ha peccato né i suoi genitori quindi la sofferenza non è un castigo di dio non è una prova di dio e continua il libro della sapienza nel giorno del loro giudizio i giusti risplenderanno come scintille nella stoppia correranno qua e là governeranno le nazioni avranno potere sui popoli e il signore regnerà per sempre su di loro quanti confidano nel signore comprenderanno la verità coloro che gli sono fedeli vivranno presso di lui nell'amore vedete cos'è l'immortalità vivranno presso di lui nell'amore perché grazie e misericordia sono riservate ai suoi eletti notate questo autore non può ignorare la concezione dell'uomo del mondo ellenistico in cui vive concezione secondo cui l'anima è il principio spirituale dell'essere umano che si distingue dalla materialità del corpo di questa tenda d'argilla di questo corpo corruttibile l'anima immortale il corpo il corpo semplicemente è una tomba dell'anima l'anima si deve liberare dicevano gli antichi greci si deve liberare da questo corpo corruttibile notate questo giudeo che crede nella risurrezione corporea dei morti per evitare la reazione immediata dei suoi ascoltatori dei suoi lettori che sono di formazione greco ellenistica per evitare la loro reazione contro la dottrina della risurrezione corporea dei morti e si vede costretto a esprimere la sua speranza nella sopravvivenza ultraterrena dell'io personale con le loro stesse categorie per evitare la reazione degli ateniesi contro cui si si scontrò lo stesso apostolo paolo quando nell'areopago si mise a parlare leggete atti 17 della risurrezione corporea di gesù e dei credenti e quando dice il testo sentirono parlare di risurrezione dei morti gli ateniesi dissero a paolo su questo paolo ti sentiremo un'altra volta allora l'autore del libro della sapienza per evitare questa reazione di rifiuto esprime la sua speranza nella risurrezione corporea con i termini dell'immortalità dell'anima dell'incorruttibilità dell'anima ma notate per lui l'immortalità non coincide alla maniera greca con una qualità essenziale della natura dell'anima umana l'anima dicevano semplifico un po gli antichi greci l'anima è spirituale come il divino dunque è immortale come eterni sono gli dèi no per questo giudeo credente dell'antico testamento c'è una risurrezione corporea del dell'essere umano ma lui l'esprime come immortalità ma questa immortalità è una relazione di comunione con dio nella vita di dio è un dono che dio promette al giusto che confida in lui con questa speranza siamo giunti al nuovo testamento a gesù stesso e allora concludo concludo con una frase suggestiva di martin lutero e con una preghiera del libro della sapienza sono due inviti alla speranza per tutti noi credenti in cristo ma soprattutto per quei credenti che stanno facendo la ruvida esperienza di giobbe che stanno attraversando dei periodi crocifiggenti ebbene martin lutero scrisse queste parole strane paradossali come piaceva lui ma che contengono una scintilla di verità sul volto del nostro dio il dio di gesù cristo dio dice lutero gradisce molto di più le bestemmie del disperato che non le lodi tranquille compassate del benestante e con questa consapevolezza nel cuore vorrei però leggervi una preghiera al dio creatore al dio della vita che si trova nel libro della sapienza al capitolo 11 un libro vi dicevo che affronta la stessa crisi di giobbe ma la supera nella speranza signore prega l'autore del libro della sapienza prevalere con la forza ti è sempre possibile chi potrà opporsi al potere del tuo braccio tutto il mondo davanti a te come polvere sulla bilancia come una stilla di rugiada mattutina caduta sulla terra hai compassione di tutti perché tutto tu puoi non guardi ai peccati degli uomini in vista del pentimento poiché tu ami tutte le cose esistenti e nulla disprezzi di quanto hai creato se avessi odiato qualcosa non l'avresti neppure creata come potrebbe sussistere una cosa se tu dio non vuoi o conservarsi se tu non l'avessi chiamata l'esistenza tu risparmi tutte le cose perché tutte sono tue signore amante della vita è questo l'augurio che ci possiamo fare a vicenda stasera che aumenti la nostra fede nel dio amante della vita anche nei momenti duri aumenti la nostra fede nel dio amante della vita e la nostra speranza nella risurrezione con tutto noi stessi con tutti i nostri cari la risurrezione con gesù e come gesù